Il Vangelo di oggi ci esorta alla fedeltà. Fedeltà a che cosa? Fedeltà alla legge. Gesù dice una parola molto forte. Chi trascoderà anche uno minimo di questi precetti sarà il più piccolo nel regno dei cieli. Obedire alla legge, obbedire a tutta la legge. Non è facile ai giorni di oggi accettare una cosa di questo genere. Prima di tutto perché c'è un amore all'atteggiamento di libertà nei confronti di Dio da ogni legge. Poi c'è l'anarchia, ci sono gli anarchici che rifiutano ogni forma di legge per cui la tentazione di dire ma non sarebbe meglio se tutti fossimo coscienti fino al punto da non aver bisogno di nessuna legge. Ricordo con molto piacere la prima lezione di filosofia del diritto che ci fece all'università il professor, un grande professor, Gonella, quando ci dice che la legge non è frutto del peccato originale perché se anche Adam ed Eva non avessero fatto il peccato originale i semafori ci sarebbero stati lo stesso. Ecco perché. La legge è guida, la legge è, ci dice San Paolo, pedagogo a Cristo. e il particolare, lo specifico del cristiano, è questo fatto che la legge non è al di fuori di Lui ma è al di dentro di noi. La legge è dentro di noi perché la nostra legge è Gesù Cristo, è Dio che parla nel cuore dell'uomo e parla nella coscienza dell'uomo. E gli ad Neumann ha detto che il primo vicario di Gesù Cristo è la coscienza. Per cui, attenti bene, quando ci dice di osservare tutta la legge il Signore ci dice di ascoltare lo Spirito Santo che è la legge di ogni cristiano e che parla al cuore dell'uomo. Ed è una legge di libertà perché è la legge di amore. È una legge di gioia perché è una legge che corrisponde alle necessità più profonde dell'uomo. Viene dal di dentro dell'uomo. Ed è una legge che non è imposta da Gesù come se fosse un poliziotto che sta a vedere se lo osserviamo o no. No, no, no. Ma lo Spirito di Gesù ci parla nel cuore in che maniera? Suggerendoci momento per momento quello che noi dobbiamo fare. È questa la legge del Signore. È questo che il Signore intendeva dirci quando ci dice di osservare il minimo dei Suoi comandamenti. Cioè dire essere sempre in ascolto di Lui che ci parla attraverso il Suo Spirito nella nostra coscienza e agire conseguentemente. Buona domenica.